Dopo aver accettato le dimissioni presentate dagli assessori comunali Matteo Malcangi, Anita Musto e Adele Mintrone, questa mattina il sindaco Massimo Mazzilli ha presentato a Corato i quattro nuovi assessori della sua giunta. Sono tre donne e un uomo che riceveranno queste deleghe, Musci ai lavori pubblici e ambiente, Rosito, servizi sociali, Zezza, politiche giovanili e pubblica istruzione. Tandoi attuazione del programma Contratti Appalti. Il sindaco ha trattenuto per sé la delega alla cultura, il servizio di Francesco Rossi. Abbiamo ricomposto il quadro politico nel migliore dei modi, ho nominato gli assessori, voglio dire questo la media dell'età degli assessori di 42 anni, quindi una giunta giovane, motivata, ovviamente un grandissimo ringraziamento a quella che io definisco un'operazione di avvicendamento politico. Una questione che nei mesi scorsi ci ha visto, come dobbiamo dire, lavorare per trovare degli equilibri. Questi equilibri sono stati trovati, confido e sono sicuro delle competenze dei nuovi assessori che adesso darò notizia, proprio per permettere una ulteriore maggiore fluidità all'azione amministrativa. C'è una piccola redistribuzione delle deleghe che fondamentalmente vede un maggior impegno che personalmente ho chiesto al vice sindaco dando la delega sulla sicurezza e mobilità. È un settore molto sensibile di questa comunità, abbinato allo sviluppo economico che già teneva. Ho avvocato a me la cultura, quindi senza affidarla ad altri, perché riteniamo che nell'azione amministrativa di pari passi, sviluppo economico, percezione di sicurezza e di mobilità, se pensiamo ad esempio alla mobilità nel centro antico, ma soprattutto anche per l'opera che ci sarà da fare sulla viabilità o sul piano urbano del traffico, chieda maggiore impegno e competenza, proprio perché poi è una competenza del vice sindaco. Il resto fondamentalmente resta uguale con i neoassessori che subentrano per competenze e dimissionarie. All'assessore tecnico di mia nomina, la dottoressa Tandoi, ho affidato la delega per l'attuazione del programma, quindi siamo quasi a metà mandato, è opportuno che ci sia una competenza specifica per fare il punto sulla situazione e coordinare al meglio gli sforzi, così come poi la ricerca delle fonti finanziarie e contratti appalti contenziosi, legalità e trasparenza. Mentre per quanto riguarda la neoassessora Zezza, ho affidato le politiche giovanili che deteneva l'assessore Emusto e la pubblica istruzione che detenevo io ad Interim e quindi viene affidata. Mentre al neoassessore Rosito subentra pari pari nell'ottimo lavoro svolto dall'assessore Mintrone sulle politiche sociali. Il neoassessore Musci, già consigliere comunale, subentra nelle identiche deleghe all'ottimo assessore Malcangi, a cui devo dare il plauso per tutti i lavori avviati che oramai vediamo in corso, più quelli già programmati, quindi fondamentalmente lavori pubblici e ambiente. Perrone, il senatore Perrone, resta con la delega all'urbanistica, l'assessore Nesta con la sua delega che aveva e io continuo a trattenere bilancio personale e cultura a questo punto, tra le altre.